Minecraft lo sappiamo, è il gioco dalle infinite possibilità e dalle infinite personalizzazioni anche se a volte sono davvero tante quelle da inserire magari all'interno del proprio mondo per migliorare non solo la grafica, alcuni blocchi o semplicemente velocizzare alcuni aspetti del gioco quest'oggi vi vengo quindi in aiuto con ben 8 modifiche da portare al vostro gioco per migliorare l'esperienza generale all'interno di un mondo che sia vanilla, multiplayer, single player, qualsiasi cosa eeeh cari iscritti eccoci questo nuovo video di Minecraft si mi trovo nella vanilla e non a caso infatti nella mia vanilla ci sono alcune, molte, tante personalizzazioni che io ho fatto che ho scaricato per migliorare il mio gameplay e per renderlo soprattutto meno noioso a chi guarda i miei video della vanilla quindi si questo oggi non è un video della vanilla e ci tenevo quindi a condividere con voi quali sono i miei segreti e trucchi tra virgolette per migliorare l'esperienza all'interno di un mondo di Minecraft magari alcuni già riconoscerete, altri no in ogni caso questo video è pronto per chiunque ne avesse bisogno inoltre questo sarebbe diciamo il continuo di un video che feci tanto tanto tempo fa in cui mostravo 5 più 1 resource pack o cambiamenti, modifiche da portare a Minecraft per migliorarlo ebbene sto facendo questo video aggiornamento per due motivi alcuni resource pack magari non sono più aggiornati frequentemente quindi in questo video dirò un paio di migliorie o alternative per alcuni vecchi resource pack e in più quel video l'ho fatto nella 1.17 adesso siamo praticamente nella 1.20 e tra quel video e questo c'è di mezzo questa intera mia vanilla in cui ho imparato e riscoperto tante cose e tante possibili migliorie da portare al gioco dopo tutto Minecraft si può modificare no? con i resource pack e con le mod quindi perché non farlo? quindi per riepilogare oggi vedremo 3 più 1 resource pack diciamo quel più 1 è un resource pack che viene aggiornato dal precedente video abbiamo poi la shaders mia preferita che utilizzo praticamente in qualsiasi video di Minecraft vanilla e non un paio di strumenti molto utili da utilizzare per le vostre costruzioni e per finire alcune mod che potete installare autonomamente oppure scaricare il pacchetto della vanilla che utilizzo io questo qua praticamente entrando all'interno del mio server discord c'è tutto il processo di download quindi colgo anche l'occasione per ricordarvi di entrare all'interno del mio server discord il link lo trovate qui sotto in descrizione per quanto possibile vedremo tutte queste migliorie all'interno del mio mondo visto anche per farvi vedere come le applico io nel mio mondo vanilla in attesa poi che esca il prossimo video della vanilla lunedì prossimo e magari anche una live sabato prossimo e partiamo allora dalla prima modifica che mi sento di consigliarvi in realtà non è proprio una modifica diciamo questa è la modifica numero 0 perché si tratta più che altro di un aggiornamento di un resource pack di cui ho parlato nell'ultimo video di questo tipo nel predecessore di questo video il resource pack in questione è l'oxali enchanted book e come dice il nome permette di visualizzare direttamente dall'immaginina dell'oggetto quale incantamento è su quale libro ad esempio qua abbiamo il libro con sharpness qua un libro con quick charge qua con multishot e vedete anche che alcuni sono anche molto indicativi del loro incantamento ad esempio qua protezione è un libro con delle piastre di metallo di acciaio protezione dal fuoco invece è sempre sì con le piastre di metallo perché è sempre protezione ma anche delle fiamme all'interno unica pecca forza di questo resource pack è che mostra soltanto il primo enchantment ad esempio qua abbiamo protezione e knockback e lui ci mostra knockback ok magari non è il primo magari è soltanto uno dei due non entrambi questo poco ma sicuro e questo si applica praticamente a tutti i libri attualmente presenti in minecraft 1.19 per me è molto molto comodo averlo perché beh mi permette di trovare facilmente gli enchant semplicemente guardando così senza dover andare a questa efficienza questa protezione questo power eccetera eccetera unica pecca di questo resource pack è che funziona soltanto con le mod in particolare se giocate con la optifine non avrete problemi mentre se giocate con un pacchetto fabric dovrete avere la mod cheat reseun questa qui per cui o la scaricate manualmente oppure se utilizzate il mio pacchetto vanilla già l'avete senza problemi e quindi vi funzionerà di conseguenza anche questo resource pack chiaramente il link per scaricare il pacchetto della mia vanilla e anche di tutti i resource pack barra mod barra altro di cui parlerò in questo video li troverete qui sotto in descrizione passiamo invece adesso al prossimo resource pack e attenzione questo per la gioia di alcuni di voi non necessita di alcuna mod semplicemente infatti riguarda sempre gli enchant e ci permette di visualizzare questa volta non dall'icona ma piuttosto dal testo che tipo di enchant è colorandolo magari anche in base a dove va quindi se è un enchant speciale se va sugli strumenti se va sulle armi sulle armature eccetera e anche mettendogli un'iconcina ad esempio qua vediamo l'hack of the sea con l'icona della canna da pesca perché va sulla canna da pesca e la spada se va sulla spada e questo posso dirvelo anche se è una modifica molto molto semplice e anche molto utile perché permette magari di vedere così ad impatto quali enchantment ho su uno strumento piuttosto che sui libri visto che lì già abbiamo le iconcine e adesso mi conviene passare un attimo nel mio mondo in creativa visto che la prossima cosa che dobbiamo vedere riguarda la redstone e non solo la redstone tutti gli oggetti che hanno a che fare con la redstone in sostanza questo resource pack chiamato redstone tweaks permette di farci vedere ad esempio le funzionalità dello strumento come ad esempio il comparator che sappiamo che ha la modalità comparatore e la modalità sottrazione che si attiva attivando la torcia qui sopra oppure il ritardo del ripeter abbiamo uno due tre quattro ma non solo perché possiamo vedere anche l'effettiva intensità del segnale sui singoli pezzetti di redstone quindi 13 12 11 eccetera eccetera e anche tante tante altre cose ad esempio sul note block vediamo sia la nota sia il blocco che c'è sotto ad esempio mettendo la pietra vedete che il bordo qui cambia diventa di pietra per dirci che questo note block farà il rumore come se avesse sotto la pietra perché effettivamente ce l'ha oppure gli hopper che hanno questa freccetta che indica dove va l'uscita dell'hopper quindi senza andare a guardare ogni volta sotto possiamo vedere sia da sopra con la freccia quindi sappiamo che va verso di qua oppure questo con questo cerchietto che va verso sotto oppure l'observer guardate un po' ha questa freccia che ci indica dov'è l'output del blocco e una cosa simile ce l'ha anche il dispenser e il dropper anche se nel loro caso l'output è la faccia da cui sputano o piazzano l'oggetto sicuramente se utilizzate la redstone questo pacchetto può essere davvero tanto 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 utile per voi e magari per le persone a cui dovete spiegare come funziona quella redstone o soltanto a voi anche e cosa interessante questo resource pack non ha bisogno di alcuna mod semplicemente si basa sugli stati dei blocchi quindi roba tecnica che non sto qui a spiegarvi ma funziona anche in vanilla prima di vedere quest'altro resource pack piccolissima cosa non funziona se giocate senza la optifine quindi se giocate con un pacchetto fabric tipo il mio in vanilla non potete usare questo pacchetto risorse mi spiace purtroppo utilizza una funzionalità ancora esclusiva della optifine ovvero i custom entity model quindi se non li avete attivati e avete la optifine attivateli e vedete che vi funzionerà anche questo il resource pack di cui sto parlando è il fresh animation adesso che devo cercare un'entità sono spreche tutti no eccoli là questo resource pack probabilmente l'avrete già visto da qualche parte aggiunge e migliora tutta una serie di animazioni per quanto riguarda i mob sia ostili che neutrali guardate qua ad esempio i villager hanno gli occhi che si muovono ma anche altre caratteristiche facciali e non che rendono molto più vivo il loro personaggio abbiamo anche l'iron golem che muove il sopracciglio muove gli occhi e ondeggia ogni tanto come ad atteggiarsi del tipo se fai qualcosa di sbagliato ti distruggo la faccia dopo tutto deve incutere timore e quindi è giusto che faccia così ma anche e sottolineo anche per i mob ostili ad esempio qua vediamo uno scheletro che guardate come cammina uno zombie che è molto molto più zombie di quelli che abbiamo in vanilla inseguimi vedete come mi insegue aia vedete come è molto più realistica la camminata di inseguimento qua abbiamo anche dei creeper guardate che carini cioè che belli come sono animati che carini non lo sono lo shulker come sarà lo shulker normale classico penso proprio di sì la gallina ha delle animazioni diverse tutta più fluida come si muove e tutte queste cose chiaramente possono migliorare l'esperienza generale che abbiamo di minecraft aumentare il feeling aumentare l'immersione all'interno del gioco come io ho detto lo ripeto di nuovo non funziona con fabric e quindi neanche con il pacchetto vanilla che ho io bisogna fare dei sacrifici insomma ho questo ho il pacchetto fabric vanilla che tra poco vi dirò anche che altre cose interessanti ha anche se devo dirvela tutta preferirei avere entrambi perché sono davvero tanto tanto belli io spero che un giorno mettano i custom menti di model anche su fabric con magari una mod e andando avanti ci lasciamo dietro il resource pack e passiamo adesso alle shaders in particolare c'è una shaders di cui voglio parlarvi ed è quella che utilizzo praticamente in ogni mio video di minecraft sto parlando della complementary remaged ed è quella che sto usando anche adesso in questo momento ci sono dei motivi molto semplici sul perché la utilizzo e preferisco questa a tante altre shaders prima di tutto è una shader che non modifica troppo l'ambientazione di gioco ovvero questo è pur sempre minecraft non è troppo realistica non è troppo dettagliata abbiamo giusto un po' di luce la nebbia il cielo anche se vediamo è minecraft abbiamo forse le stelle un pochino più dettagliate la luna luminosa e il sole anche quando diventa giorno anzi lo metto subito ecco qua il sole luminoso e le nuvole forze che sono volumetriche ma oltre a questo resta minecraft l'unica forza che cambia tantissimo o meglio tantissimo parecchio rispetto alle altre cose è l'acqua perché? perché acquisisce questa texture ondulata e il riflesso di quello che c'è praticamente che riflette oppure alcuni blocchi tipo la sabbia che acquisiscono questo si sempre riflesso sulla base però della luce ad esempio c'è la farmland che se adesso si bagna vi faccio vedere cos'è che cambia ecco qua vedete che c'è questa striscia in mezzo che è lucida che riflette il sole mentre il resto del blocco no questo è perché qui in mezzo è come se fosse bagnato e quindi riflette inoltre questa shader funziona sia con fabric utilizzando l'iris mod sia con la optifine utilizzando per l'appunto la optifine è una shader quindi diciamo universale insomma non è una di quelle shaders che richiede una 8090 per funzionare ma non è neanche leggerissima perché vedete comunque il suo impatto grafico lo ha e quindi anche l'impatto prestazionale quello che vi consiglio di fare è scaricarla provarla giocare con le impostazioni e trovare magari quelle che vi permettono di avere l'esperienza migliore sul vostro computer il prossimo strumento anzi due strumenti di cui voglio parlarvi è forse la cosa più utile da avere su minecraft se dovete costruire qualcosa che abbia una forma comunque circolare sto parlando di questo strumento pixel circle generator che ci permette come dice il nome di generare un cerchio utilizzando delle dimensioni in pixel quindi se lo vogliamo largo 5 se lo vogliamo largo non lo so 14 15 possiamo vedere come dobbiamo piazzare i blocchi per avere un cerchio di queste dimensioni e che sia il più naturale possibile questa è una cosa difficile in minecraft ovviamente si può cambiare quanto vogliamo anche farlo 47 se siamo dei pazzi e dobbiamo fare un cerchio di 47 di diametro lo possiamo fare in alternativa possiamo anche generare degli ovali togliendo questo qua force circle e quindi possiamo poi cambiare come vogliamo l'altezza dalla larghezza e quindi vedete viene un ovale volendo possiamo anche cambiare come deve apparire il bordo quindi largo sottile così quindi soltanto i blocchi essenziali oppure tutto riempito quindi praticamente questo è uno strato magari dobbiamo fare non lo so un disco piegato in più qui a fianco ci dice quanti blocchi ci servono in totale 2099 quanti stack da 64 e quanti da 16 non so perché da 16 ma magari serve a qualcuno vuole costruire colander perlo con le uova può farlo un altro sito molto simile a questo è quest'altro che permette di creare delle sfere e non solo vi mette link e ve li lascio entrambi qui sotto in descrizione questo qua così come ve lo lascio permette di creare delle sfere qui sotto possiamo scegliere la dimensione della sfera quindi il diametro farla di 178 blocchi wow è enorme e qui sul lato invece possiamo scegliere quale strato vogliamo disegnare diciamo vogliamo costruire chiaramente vi rendete conto fare una cosa del genere è complicata perché non vediamo bene quali blocchi dobbiamo andare a costruire e per questo c'è la modalità 2d qui in alto che semplicemente ci fa vedere in diciamo due dimensioni l'attuale livello che stiamo costruendo magari adesso abbasso un pochino così si vede meglio strato 1 è così strato 2 strato 3 strato 4 5 6 eccetera eccetera notate che vi fa vedere sempre così in grigio chiaro 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 lo strato precedente mentre in quello scuro vi fa vedere quello attuale questo strumento è molto comodo sia per fare delle sfere sia per fare delle semisfere quindi delle cupole magari partendo qua abbiamo messo 36 quindi partiamo da 18 lo strato 18 è uguale allo strato 19 perché sarebbero gli strati intermedi quindi poi risalendo anche il 20 è uguale il 21 invece inizia a chiudersi quindi partendo magari dal 20 dal 18 o comunque da quello intermedio si può creare una cupola partendo così e seguendo questo tutorial io infatti così ho fatto la mia cupola di vetro per la serra nella vanilla vi dicevo però questo sito non ha soltanto questo generatore infatti cliccando qua su sphere possiamo vedere tutti i generatori che questo possiede quindi anche un pupazzo di neve gigante o un osservatorio e torniamo adesso nella mia vanilla perché le prossime cose che dobbiamo vedere sono delle mod che funzionano in teoria soltanto su fabric non so se esistono dei porting anche per forge comunque sono già presenti all'interno del mio pacchetto vanilla che vi ricordo trovate sempre all'interno del mio server discord e partiamo allora dalla prima mod ed è forse quella più conosciuta nella mia serie sto parlando della litematica la mod di cui io praticamente non ho niente attualmente piazzato quindi attiva un po' di roba che ci permette di vedere come vedete da quella cosa che ho messo soltanto per farla vedere in un video delle anteprime di strutture che magari costruiamo in creativa e poi che integriamo nei nostri mondi ad esempio lì abbiamo la nostra serra di cui ho fatto lo scheletro in creativa e poi l'ho trasportata qua in survival seguendo lo scheletro che avevo fatto oppure lì abbiamo la torre del mago costruita sempre con l'ausilio della litematica e in realtà tante altre cose di cui ormai ho eliminato i piazzamenti perché non mi servono più insomma una volta che l'ho costruita li vado a rimuovere perché la litematica è molto utile ve l'ho già detto permette di creare in creativa delle strutture e trasportarle poi in survival ma non trasportando direttamente i blocchi trasportando uno scheletro un ologramma di quella struttura sulla base della quale puoi andare a piazzare i blocchi che abbiamo effettivamente nel mondo in survival insomma se dovete fare delle costruzioni complesse nel vostro mondo in survival cosa vi consiglio di fare in un mondo creativa costruite la vostra struttura modificatela miglioratela come volete tanto siete in creativa create la schematica con la litematica portatela nel vostro mondo in survival e costruitela dove aver preso i materiali chiaramente non voglio coprire troppo nel dettaglio la litematica visto che già un paio di settimane fa ho fatto un video dedicato alla litematica e su tutto il funzionamento di base quindi se volete andare a vedere quel video per avere più informazioni ve lo lascio magari qui nelle schede o in descrizione magari entrambi magari soltanto nelle schede un'altra mod di cui io praticamente mi sono innamorato una volta che l'ho scoperta riguarda la gestione dell'inventario in vanilla ricordatevi che le mod che vi sto facendo vedere non vanno a modificare per niente per nessun motivo il comportamento vanilla del gioco infatti la mod che sto per farvi vedere permette soltanto di visualizzare in maniera grafica il contenuto di uno shulker box e sostanzialmente si questa mod fa questo quindi permette di vedere così dall'inventario gli shulker che abbiamo quindi prendo ad esempio anche questi due posso vedere direttamente cosa c'è in uno e nell'altro ecco qua senza doverli per forza piazzare oppure mettergli dei nomi ricordarmi ecco qua direttamente dall'inventario vedo cosa c'è lì dentro ma non posso ricordare interagirci se non piazzandole per terra e aprendoli così effettivamente come vi ho già detto questa mod è già all'interno del mio pacchetto vanilla quindi se scaricate quello avrete anche questa mod e arriviamo adesso all'ultima mod e anche ultimo contenuto di questo video la mod in questione è questa qua il libro delle recipe sì è vero sembra il solito libro in realtà no questa mod cosa fa aggiunge innanzitutto questi due pulsanti uno per le impostazioni uno per l'instant crafting che è molto 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 utile ma non solo perché aggiunge anche questo qua ovvero il recipe book all'interno del breathing stand ovvero possiamo vedere come si fanno le pozioni semplicemente da minecraft senza andare a prendere quel dannato schema su come si fanno le pozioni che ormai conosco anche quasi a memoria questa mod chiaramente come le altre non va a modificare alcuna cosa del gioco se non unica forse modifica un pochino più aggressiva tra virgolette per mettere l'instacrafting ovvero senza l'instacrafting attivo noi facciamo così e prendiamo con l'instacrafting attivo vi faccio vedere attiviamolo io posso cliccare una volta clicco direttamente su questo oggetto lui cosa fa mi crafta una volta quell'oggetto fa automaticamente il crafting se tengo premuto shift chiaramente lui mi fa tutti i crafting con quell'oggetto chiaramente capite è una cosa molto 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 potente molto bella anche ma fate attenzione perché se lo avete attivo e non fate attenzione a quello che create potreste ritrovarvi con 64 pressure plate di oro esatto ecco da dove sono spuntate fuori queste 64 pressure plate comunque per dirvi io lo uso molto spesso ad esempio per riunire le pepite in lingotti oppure lingotti in blocchi con questo però terminano le modifiche di questo video spero che qualcuno di voi già stia utilizzando queste modifiche nel caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti e nel caso invece non le stesse utilizzando fatemi sapere se andrete dopo questo video a scaricare il pacchetto vanilla o qualche mod che vi ha incuriosito e vi sta interessando parecchio ovviamente se avete qualsiasi tipo di problema provate a scriverlo qui sotto nei commenti cercherò di aiutarvi nel limite delle mie possibilità detto questo vi ricordo ancora che nel mio server discord trovate il pacchetto vanilla con tutte le mod di cui vi ho parlato e anche i resource pack di cui vi ho parlato oggi e se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate ed iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di minecraft e ciao 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 a tutti